Ce l'hanno come progetto arma Oh mica tutti che escono come dei cavalli dalle porte Ma cos'è oh? E' uno scudiero Guardalo 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 c'è il mantello No vabbè raga ma che cazzo di hobby è Mio dio mi voglio non far venire un coccolone Porco I dudulus Con il whatsapp guys con il vostro nacre che vi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video signori miei Oggi il fanalino di coda Perché porco il dudulus Mancava nella collezione Delle armi del nazionale Un'armetta very crispy Sempre nello stile chimera Quindi molti di voi magari hanno già capito Dall'arma che il nazionale oggi vi andrà a parlare Ragazzuoli La capino matto Ma pisa ragazzuoli vi ricordo Il secondo canale del nacre Do Nel link in descrizione raga andate a vedere L'ultimo video che ho messo sul secondo canale Perché è qualcosa veramente di Golosissimo Non potete proprio perderlo quindi Seguite il link sotto in descrizione Fatemi sapere nei commenti E ovviamente non dimenticare di passare Sulla piattaforma viola Perché lì ragazzuoli sono in live Tutto il giorno Tutti i giorni Tutto nudo Eccolo qua porco il dudulus Raga Voglio farvi una domanda Ma quando Vi droppate Lo trovate per terra Non godete come dei ricci sudati di mare E l'arma Che voglio sempre con la terra Ovviamente Poi A lungo andare Ho deciso di farci una build Perché Era ingiusto Tenerla in disparte Perché Come avete appena visto raga Il nazionale Non si Non si limita nella build Perché la può fare Velocissimo Ok Sia nell'entrata in modalità Merino Sia negli spostamenti E ovviamente Super stabile Che neanche ve lo dico Volete sparare anche a quella distanza raga Allora ragazzuoli Partiamo ovviamente Con la build Calcio Sped snap S10 Ovviamente Non calibrato Pulito come lo vedete Laserone FSS Ole V Non calibrato Volata Terzo accessorio X-Teen Ported 290 Ok Per stabilizzarlo Orizzontalmente E soprattutto Verticalmente Circa del 25 Per cento Lo calibrato In più 0.62 Stabilizzazione Recoil Caricatore da 45 colpi E impugnatura Demo X2 Più 0.77 Stabilità Rinculo Più 0.35 Stabilità Puntamento Da fermi Raga Ovviamente Ha senso usarla Anche perché è un assalto che va utilizzato Per il close E ha soprattutto Come il chimiera Una buona portata iniziale Rispetto alle mitragliette Mitragliette si Depotenziano Più o meno circa Entro i 10 metri Quest'arma va oltre i 20 Prima che Il tight to kill Va ad alzarsi Quindi ovviamente Ragazzuoli Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Cosa pensate Della capito Matto Del nazionale Noi ci vediamo domani Con il prossimo video Bella ragazza Ho visto uno Sembra di stare a toi Sembra di stare a lo zoo Oddio con l'ultimo colpo L'ho preso Urlo del zium Un pochino Ancora sul tetto Il coliono Ancora sul tetto Vabbè Io Più forte del mondo Ma perché L'avevano già incontrato Il national de pari Ehi Domani Tiresi Domani Anche dopo Domani Cazzo Ma regalarmi così La kill Non doveva Veramente gentile Da parte sua Sto sparando con qualcuno Questo Che pensavi Che stavo lì Ad aspettare Che mi chiamavi Sembra di stare a toi Sembra di stare a lo zoo Madonna E come è uscito E come è uscito questo Regà La madonna santissima Che cazzo era questo Porco zio Steven Sigallo Madonna Ma che cazzo Che cazzo Che cazzo è uscito a glitcharselo Nell'armadietto Capito Capito E quindi Ce l'hanno Capito Come progetto Arma Madò Sono entrato Un po' più Guarda Mmm Sono entrato un secondo Dopo Ero fottuto Capito Sono riuscito a glitcharselo E ce l'hanno come arma Proprio Amica Tutti che escono Come dei Come dei cavalli Dalle porte Ma cos'è Oh Sono bevute la Red Bull La Red Bull Adesso che l'ho detto Questo senza paracadute Vola Ma regà Che cazzo era Gesù questo Regà Ma non poteva Farla Sta roba Senza paracadute Sio smittone Buonasera Allo smittone E lo smittone Golosones Signor smitti Raga Dentro il camion Sto continuando a mettere mine Impazzisco No raga Non ci sto credendo Minimamente E' uno scudiero Pazzo E' uno scudiero Guardalo 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 Guarda c'è il mantello No vabbè raga Ma che cazzo di lobby E' mio dio Mi voglio non far venire Un coccolone No raga No 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 Lo scudiero Pazzo No raga No E' la mia Nemesi E' la mia Nemesi Ragazzi Non più Matto Come un cavallo Porco I dudulus Con il set Mesolo I siemolo Si vola Signor Tommy Si vola Grazie Tommy Amore mio Non so come combattere I scudieri Raga Ce ne ho due In zero Non abbandono gli amici Due scudieri Raga E' questo castorino Spacca i culi Raga Mi chiede un attacco Mi chiede un attacco No vabbè raga Mi voglio far bestemmia Non so come combattere Ragazzi Ce ne sono due Uno c'è un scudoro No 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 Si 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 No 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 Sciuri 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 Wow Ok Uno l'ho preso Uno l'ho preso Uno dei due 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 No raga Ditemi che non ero scudiero L'ultimo C'è stata qualche buonanima Che me l'ha seccato Dove cazzo è raga 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 Sono un po' preoccupato Raga Raga Ragazzi Raga Dove cazzo è Ciuma E' così che si fa E' così Non era lo scudiero Però Quindi Par 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 Cont L' S Grazie a tutti.